bonsoir frere bossi parliamo un poco della partita spezia di domani lo spezia che viene disonerare il suo allenatore gotti sarà rimpiazzato da lorieri gioca con un 3 5 2 penso che coltino metteva così e penso che continuerà a giocare così c'è tante assenze sette giocatori tra cui la sua punta di diamante se si può chiamare zola colm tercino destro ri può darsi che rientra ma viene da un pure anche lui che non fortuna terzino adesso cercato anche dalla us vedete bravo e promettente nelle ultime cinque partite ha perso tre volte nel pareggia da una e ne ha vinte una squadra che segna poco e subisce molto a due punti dalla terza ultima che il verona c'ha 19 punti quindi è una partita che se la juve non prende sotto gamba dovrebbe portarla a casa secondo me poi dipende dipende da tanti fattori sentito la conferenza stampa di allegri la juve farà turn over come giusto che sia bremer squalificato sarà rimpiazzato da rugani chiesa non è stato convocato giocherà china al posto di vlasovic può darsi pure che giocare a vlasovic e china davanti perché può darsi quello che lui si metterà contro e 5 2 giocherà quadrato al posto di decilio e forse metterà ai bing al posto di costic secondo me una juve è una partita che si deve sbloccare subito come tutte le partite contro queste squadre di bassa classifica è una partita che la juve cioè deve segnare subito scusate deve continuare attaccare perché se fa il solito giochetto che segna e si si ferma aspettando il momento il fischio finale la juve può darsi andrà brutte sorprese la juve perché la juve sta bene fisicamente si è vista colman cioè la juve non è una squadra fisicamente che sta male ma è purtroppo segna e difende il risultato perché si è visto che una volta che il nante ha pareggiato la juve l'ha ricominciato attaccare gli ultimi 20 minuti quindi è una squadra che sta bene fisicamente si deve approfittare di questo momento che sta bene fisicamente e si deve giocare di intensità continua no nei primi 25 minuti tutti fermi con intensità continua per una settantina di minuti della partita e poi logicamente cerchi di gestire se c'è un buon vantaggio comunque fiducia per domani sperando che tutto vada bene perché noi ci servono di camerare punti su punti anche perché anche con la penalizzazione raga la juve al settimo sesto posto ci può puntare poi si vedrà anche per andare molto più in alto perché non vedo squadre continuo a parte il napoli lì davanti e vedo squadre molto discontinuo e la juve deve fare un filotto di vittorie e vi può rientrare anche in zona champions secondo il mio modesto parere ragazzi perché non è che giochiamo contro avversari di una continuità lì che stanno lì davanti di una continuità rulli compressori questo è una squadra e molto discontinuo e squadre mediocri la juve ce la potrebbe fare comunque la juve secondo me domani io spero che non giochi con 3 4 1 1 3 5 1 1 questi moduli qua di fantascienza io spero che giochi o con un 352 puro arrivata a questo punto o con 343 ma io giocare sempre con un 433 ma senza chiesa c'è molto più difficile farlo anche se potresti mettere costic al posto di chiesa fiduciosi per domani fino alla fine forza juve